Dopo l'ultima riunione di maggioranza il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi ha ribadito o andiamo tutti verso la stessa direzione oppure possiamo tornare a casa? Ma sì, insomma io credo che davvero si stia oltrepassando il limite perché si fanno le riunioni di maggioranza, non si parla dei problemi della città, non si parla dei problemi da risolvere, delle soluzioni e ci incagliamo sempre e comunque sui numeri la Giunta, questo non è più possibile. Non è un argomento che interessa i cittadini Teramani questo e quindi è ora a questo punto di dire basta con questi giochetti, qui mi sembra che ognuno giochi una propria partita, io non ci sto a questo discorso per cui adesso ognuno si assumerà le proprie responsabilità, le cose si dovranno fare come io proporrò altrimenti arriverà il commissario così magari chi continua a ripetere ma io non voglio il commissario, nessuno vuole il commissario e questo è un fatto positivo però poi mi sembra che la disponibilità a venirsi incontro perché di questo si tratta mi sembra che è nelle parole ma non è nei fatti. Che tempi vi siete dati dopo l'incontro di ieri? Guardi oggi proseguo i miei incontri con Fratelli d'Italia e al centro per Teramo non so chi verrà all'incontro, sono fissati oggi pomeriggio dopodiché farò le mie riflessioni in questo fine settimana e poi insomma dirò quella che è la mia, alla luce di queste riflessioni direi che è quella che è la mia idea per Teramo e nel solo interesse di Teramo e poi gli altri faranno quello che ritengono opportuno siamo in un regime di democrazia per cui ognuno fa come ritiene giustamente Lei si aspettava una maggiore apertura in questi giorni da parte delle forze politiche della maggioranza? Guardi io mi aspettavo un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti nei confronti di una città che anche ieri ha avuto un po' un ritorno al passato purtroppo perché quella scossa di terremoto comunque ha rimesso tante persone ha fatto tornare la paura a tante persone tanti cittadini hanno riaperto le case al mare anticipatamente giustamente, ma su questo magari non tanto giustamente perché poi questa città deve continuare a vivere però la paura è questa e determina e provoca questo guardi io credo di aver fatto tutto quello che potevo fare mi sono dimesso 20 giorni, ho azzerato l'aggiunta davvero tutte le carte che avevo io le ho giocate e vuol dire che insomma ripeto che a questo punto bisogna vedere chi ci vuole stare e chi non ci vuole stare